Karateca di alto livello ma anche relatrice di un convegno tutto basato sulle arti marziali, ne parliamo con Laila Hermano, un'intera giornata di arti marziali e di karate in particolare a Penne. Sì, abbiamo cominciato stamattina con un convegno presso l'Istituto Comprensivo di Penne, Laura Ciulliparatore, dove insieme alla dottoressa psicologa del CONI, la dottoressa Margherita Sassi, abbiamo esposto a questi ragazzi come lo sport li può aiutare a vivere meglio e a gestire meglio le emozioni. Emozioni come aggressività, la rabbia ma emozioni anche piacevoli. Sugli spalti c'è il pubblico delle grandi occasioni al Palasport. Certo, un palazzetto dello sport stracolmo oggi pomeriggio qui, a corsi da tutto l'Abruzzo, principalmente dall'area Vestina anche perché siamo qui a Penne, proprio per consolidare queste nostre discipline e consolidare appunto il concetto del karate di non la non violenza ma controllo e autocontrollo. Con il sindaco di Penne donato di Marco Berardino un'intera giornata dedicata alle arti marziali, ma qui a Penne non è una novità perché c'è grande tradizione. Sì, devo dire che c'è una grandissima tradizione, ci sono degli atleti anche di livello internazionale e c'è soprattutto un'associazione, il Vestina Karate, che è veramente un fiore all'occhiello per la nostra città. Fanno delle iniziative molto importanti, questa giornata è una giornata importante perché abbiamo parlato questa mattina di bullismo, quindi abbiamo parlato di un tema molto di attualità e oggi, questo pomeriggio, qui ci saranno delle rappresentazioni, veramente delle arti marziali con dei ragazzi meravigliosi. Tutta la regione sta qui a Penne oggi e quindi io ringrazio veramente la Filcams di aver organizzato questa iniziativa nella mia città. La regione Abruzzo si trova spesso a confrontarsi con tantissime realtà sportive di alto livello che l'Abruzzo vanta. Un pregio o un problema? Un pregio, io credo anzi che la regione Abruzzo, pur avendo un numero di abitanti relativamente basso e che sono soltanto 1 milione e 300 mila persone, riesce a vantare in tante discipline sportive, anche questa diversificazione degli sport nei quali primeggiano i nostri atleti, è un fatto molto positivo. Io credo che tra l'altro il fatto che si siano svolti i giochi del Mediterraneo a Pescara, che chi si comincia a discutere di universiadi da svolgere all'Aquila e comunque in tutta la regione, possa far divenire l'Abruzzo una delle regioni simbolo nel campo dello sport. Grazie.